In questo video ti mostreremo come connettiti ad una rete Wi-Fi utilizzando un router che supporta WPS. Per prima cosa accedi utilizzando le tue credenziali della portaforma di monitoraggio sulla rete. Poi clicca su Accedi. Scannerizza il codice a barre dell'inverter. Sposta il selettore on-off P su P e rilascialo entro 5 secondi. A questo punto Setup si collegherà all'accesspoint Wi-Fi dell'inverter. Clicca Continua. Per poterti connettere ad una specifica rete Wi-Fi torna alla schermata di messa in servizio e clicca Comunicazione. Clicca Server e poi seleziona Wi-Fi. Clicca Wi-Fi, clicca Conferma, clicca Connetti con WPS. Su Rute presenta un tasto WPS. Premi il tasto e tienilo premuto per qualche secondo. Quando appare il messaggio di connessione Wi-Fi riuscita, clicca OK. Per completare il processo di configurazione Wi-Fi verifica lo stato della connessione Wi-Fi. Torna alla schermata di messa in servizio e clicca Status. Scorri la schermata fino a Comunicazione e controlla lo stato della connessione Wi-Fi. Al termine della messa in servizio, clicca Disconnetti dall'inverter. Congratulazioni! La connessione Wi-Fi tramite WPS è stata completata. Grazie a tutti!